2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 11 11 12 14 21 21 22 23 22 23 23 24 27 30 30 30 31 31 31 32 32 33 34 31 32 32 33 36 36 37 37 Grazie a tutti. 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 Yeah.